Musica Nasce del segno dell'unità il nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli, tutte improntate alla collaborazione istituzionale delle dichiarazioni rese nel corso della seduta e dell'insediamento tenutasi nell'Aula Consiliare di Santa Maria Lanova dai consiglieri metropolitani eletti lo scorso 12 ottobre. Dopo la convalida degli eletti effettuata dall'Assemblea in apertura dei lavori, è stato proprio il sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris ad affermare che almeno nella fase che vedrà impegnato il Consiglio della redazione dello Statuto occorrerà superare gli steccati politici ed ideologici e lavorare tutti insieme alla redazione di un documento capace non solo di regolamentare l'organizzazione ma anche di dettare le linee e guida dell'azione del nuovo ente sul territorio. «Oggi è una giornata storica, ha sottolineato il sindaco, perché si incide sulla nostra carta costituzionale ma soprattutto sul presente e sul futuro delle nostre comunità. Siamo chiamati a scrivere una pagina istituzionale inedita e dobbiamo farlo ancora una volta solo con le nostre forze. Dobbiamo sentirci tutti protagonisti senza alcuna gerarchia. «Io sono sindaco della città metropolitana perché così ha stabilito la legge. Non faccio per questo parte di una maggioranza ma sono uno di voi e sarò garante di tutti voi». De Magistris ha chiesto poi a tutti i consiglieri di fare fronte comune nei confronti del governo della regione Campania affinché facciano quello che devono fare in termini di assegnazione di funzioni e di risorse e capiscano che è nata una nuova entità politica, un nuovo interlocutore con cui rapportarsi. Rischiamo infatti, ha messo in guardia il sindaco, di trovarci dal 1 gennaio a gestire dei servizi senza avere le risorse adeguate. De Magistris ha anche ringraziato il presidente della provincia Antonio Pentangelo che siede nei banchi del Consiglio metropolitano tra le fila di Forza Italia il quale ha sottolineato che l'ente che lascerà nel 2014 sarà assolutamente in regola con i servizi previsti ma che per il 2015 non potrà prescindere da tagli annunciati dal governo. Su questo tuttavia Pentangelo invita a valutare se il miliardo di euro di tagli annunciato dall'esecutivo per le province si abbatterà o meno sulle città metropolitane. Nel caso non le ricomprendesse, la situazione si potrebbe affrontare con maggiore serenità, ha auspicato il presidente. Domenico Tuccillo del Partito Democratico ha sottolineato che la città metropolitana presenta sì grandi opportunità ma anche rischi. In particolare se si vuole che diventi destinatario di trasferimenti significativi di funzioni, risorse e potere non si può non porsi il problema delle elezioni dirette degli organi. Mentre il consigliere David Lebro ha posto l'accento sulla necessità di coinvolgimento di tutti i soggetti che agiscono sul territorio. Vincenzo Moretto di Fratelli d'Italia ha puntato sul bisogno di rappresentare tutto il territorio superando le divergenze. Raffaele Lettieri di NCDPP e UDC ha posto al centro del suo intervento la questione ambientale con riferimento alla gestione dei rifiuti dei termovalorizzatori, tema ribadito anche da Domenico Marrazzo di Forza Italia che ha chiesto attenzione per quella che viene definita la terra dei fuochi. La necessità di uno statuto moderno, snello, funzionale è stata sottolineata da Marco Manzueto dell'NCDPP e UDC che ha manifestato la disponibilità ad accogliere l'idea del sindaco di Costituzione del gruppo di lavoro disponibilità alla collegialità palesata anche da Francesco Pinto di Forza Italia affinché ha spiegato l'ente possa essere il vero motore dell'area metropolitana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.